Allora, eccoci qui. Ciao a tutti. Prima di iniziare, una cosa che mi piace fare spesso è quella di condividere le slide. Potete già trovarle online, se andate sul link che vedete in sovraimpressione, o magari scansionate questo QR code. È il motivo per cui mi piace condividere le slide in anticipo, soprattutto per questo tipo di presentazione, perché ci sono vari esempi di codice, magari non sempre è facile zoomare, andare a vedere tutti i dettagli. Credo che sia più semplice che ognuno abbia la propria copia e possa magari averla portata di mano anche per fare delle domande alla fine della sessione. Grazie anche per averle condivise sulla chat, quindi vado avanti. Allora, voglio iniziare subito con una domanda che vi lascia immaginare le risposte, nel frattempo cerco io stesso di trovare delle risposte a questa domanda. Se parliamo di iterazione in JavaScript e Node.js, quali sono tutti i metodi che vi vengono in mente per fare iterazione? Quindi cicli for, loop e robe di questo tipo. Allora, la prima cosa che a me personalmente viene in mente appunto è il classico ciclo for, e già il ciclo for sappiamo che esiste in diverse varianti su JavaScript. C'è il for con l'indice che possiamo incrementare, quindi for i, oppure abbiamo il for in o il for off. Quindi già abbiamo tre possibilità diverse. Esiste anche il classico ciclo while nella variante while e do while. Se poi abbiamo a che fare con array, non mancano le opportunità. Lì abbiamo una marea infinita di metodi come for each, map, flat map, reduce, filter, find, e così via. Quindi anche qui abbiamo un'infinità di modi diversi che ci permettono di andare a iterare sopra, in questo caso sopra array. Ma anche quando parliamo di oggetti, quindi object literal in JavaScript, esistono tutta una serie di metodi come keys, values, entries, che ci permettono di andare a fare iterazioni o sulle chiavi, o sui valori, o sulle coppie di chiave valore. E continuando ancora abbiamo gli iterators e i generator, di cui parleremo un po' di più durante questa presentazione. Abbiamo anche lo spread operator, che forse è un po' così azzardato metterlo come metodo di iterazione, però passatemi la licenza poetica, in qualche modo vi permette anche di ripetere delle operazioni o comunque l'inserimento di valori all'interno di diversi tipi di strutture. Abbiamo anche, soprattutto nel contesto in OGS, gli eventi, come gli event emitter o gli stream. e abbiamo async iterators e async generators, for await, e così via. E tutti questi sono 28. E sono sicuro di essermene perso qualcuno. Ovviamente concedetemi di nuovo la licenza poetica di aver un po' scelto dei temi che magari alcuni sono un po' borderline, ma l'idea appunto è che esistono tantissimi modi per fare iterazione in JavaScript. E proprio per questo è un argomento che a volte può essere un po' confusionario, non è sempre facile capire qual è il modo giusto per il dato problema, o se esiste magari un modo che è un po' più idiomatico, è preferibile in generale, anche in svariati contesti. E oggi voglio appunto parlare di questo tema, e in particolar modo affrontare il tema dei protocolli di iterazione. E spiegherò meglio cosa vuol dire, ma appunto l'idea è che i protocolli di iterazione cercano un po' di standardizzare questo mondo un po' così, che negli anni si è evoluto in modo sproporzionato, offrendo tantissime alternative. I protocolli di iterazione cercano un po' di andare a dire, ok, se seguite questo tipo di protocolli, avete la massima interoperabilità che vi potete aspettare con le librerie core, ma anche possibilmente le librerie terze. E inizieremo facendo una review della sintassi, quello che si può fare una volta che abbiamo a che fare con gli iterators, e qual è la sintassi per interagirci. E poi andremo nel dettaglio appunto di come viene definito, come vengono definiti i vari protocolli di iterazione. E vedremo iterator, iterable, generators, async iterator, async iterable. Alla fine farò un po' di approfondimenti focalizzati un po' più su Node.js e farò vedere come questo tipo di pattern possono essere utili, ma anche alcuni pitfall, per così dire, alcuni trucchi che da una parte comodi, ma altri possono essere un po' pericolosi, quindi vanno visti con attenzione per capire quali sono i limiti e quali sono effettivamente i benefici. Ok, prima di iniziare faccio una brevissima intro, che già Matteo ha detto pure troppo. Mi chiamo Luciano, sono italiano, anche se vivo in Irlanda, quindi c'è la bandiera qui italiana che spesso me la gioco cambiando un po' quel colore rosso e un arancione. Lavoro come signor architect per questa azienda chiamata Fortiorem, di cui vi dirò un po' di più nella prossima slide. Sono il coautore di questo libro, No Jays Design Patterns, e potete trovare molti più dettagli sul sito che vedete in sovraimpressione. E mi trovate un po' su tutti i social, ho il mio blog, Twitter, sono molto attivo, GitHub. Di recente mi sono pure lanciato su Twitch, quindi se è qualcosa che vi piace, soprattutto sto parlando molto di Rust, dei miei esperimenti per imparare Rust su Twitch, quindi se vi fa piacere seguirmi lì, è un esperimento che sto provando, e mi fa piacere avere un vostro feedback. Parlando di Fortiorem, è un'azienda di servizi irlandese, ma opera un po' a livello internazionale. Ci occupiamo in modo particolare di AWS e di serverless, e aiutiamo altre aziende o a migrare sul cloud, o se stanno già sul cloud, magari ad essere un po' più efficienti, o a scalare le proprie architetture, adottando il paradigma serverless. È un'azienda ancora abbastanza nuova e piccola, però stiamo crescendo, in questo momento abbiamo delle posizioni aperte, lavoriamo assolutamente dal remoto, quindi non è richiesto che vi spostiate in Irlanda. Se è qualcosa che vi può interessare, fatemi sapere, e sono felicissimo di parlarne di più. Ok, tornando a noi, i protocolli di iterazione. Innanzitutto, cosa sono e perché? Io li definisco un po' come un tentativo di standardizzare questi comportamenti che appunto sono tipici dell'iterazione. Dobbiamo ripetere una determinata operazione per un certo numero di volte, quali sono i costrutti che ci permettono di farlo. Abbiamo visto che ne esistono tantissimi, con diverse prospettive. I protocolli di iterazione cercano di mettere una sorta di standard che ci consente di raggiungere più interoperabilità tra librerie core e magari librerie di terze parti. I protocolli di iterazione nascono appunto con la sintassi for-off, ma anche la versione asincrona, quella for-await, che è un po' più recente, e ad esempio ci consentono di fare cose come lo spread operator. Quindi se utilizzate React, è una cosa che si vede parecchio, quando trovate tre puntini e un valore e magari quello vi permette di espandere tutti i valori all'interno di un array e inserirli in un'altra struttura, in realtà quella è una cosa che potete fare non solo sugli array, ma su qualsiasi tipo di oggetto che implementa questi protocolli di iterazione di cui parleremo. Quindi in questo senso di base, ma anche con una qualsiasi struttura che possiamo inventare noi, perché magari abbiamo dei casi d'uso particolari. Un'altra cosa molto interessante è che con i protocolli di iterazione possiamo anche creare degli iterators lazy, il che significa che se avete tantissimi valori che dovete gestire, non siete costati a caricarli tutti in memoria, in anticipo, ma potete man mano andare a leggere gli elementi che vi servono dalla vostra struttura. Quindi nel momento in cui vi serve l'elemento successivo potete caricarlo in memoria in quel momento e vedremo qualche esempio. E soprattutto la cosa molto interessante con l'avvento di Async Await è che possiamo creare anche iterator asincroni, quindi quando l'elemento successivo non è disponibile in modo sincrono, ma richiede ad esempio una richiesta di rete o l'accesso al file system, quindi operazioni tipiche asincrone, è possibile fare anche questo tipo di iterazione, quindi aspettare che l'elemento successivo diventa disponibile, elaborarlo e continuare in questo modo elaborando una sequenza di elementi asincroni. E come abbiamo già detto, tutto ciò è assolutamente estendibile e possiamo creare sia i nostri iterator e iterable e vedremo la differenza a breve. Ok, iniziamo a vedere una review della sintassi, quindi se non avete mai utilizzato ad esempio l'iterator in generale o non vi ricordate esattamente come funziona il for off, faccio velocemente una paroramica per essere un po' tutti sullo stesso piano. Allora, in questo esempio abbiamo un array e semplicemente quello che vogliamo fare, questo è un array di string e vogliamo andare a stampare sulla console ogni singolo elemento. Quindi il modo più semplice di fare questo è utilizzando il for off e con questo costrutto for off che vedete qui quello che possiamo fare è dire per ogni judoka in questa lista di judokers dove judoka diventa appunto la variabile locale che ci permette di accedere all'elemento corrente quello che vogliamo fare è semplicemente fare un console log di questo valore e se andiamo a visualizzare l'output di questo specifico esempio vedete che l'esempio va esattamente a stampare tutti i nomi che avevamo nell'array di partenza quindi for off è un modo semplicissimo per prendere un iterator estrapolare tutti gli elementi a uno a uno e all'interno del ciclo fare qualcosa con l'elemento corrente e il for off giusto per dimostrarvi che non è una cosa che funziona solo sugli array non so se avete mai provato a usarlo direttamente su una stringa e se noi facciamo questo esempio qui in cui judoka è semplicemente una stringa quindi un nome e andiamo a fare il for off su questa struttura judoka quindi su una stringa ad ogni iterazione abbiamo accesso ad un carattere e quindi in questo modo possiamo accedere a tutti i singoli caratteri di questa stringa e ovviamente l'output sarà qualcosa del genere quindi ogni console log stamperà uno dei caratteri di questa stringa e questo perché gli oggetti di tipo stringa sono iterabili implementano questi protocolli di iterazione stessa cosa anche per i set se non avete mai utilizzato i set sono simili agli array ma ogni elemento inserito è inserito in modo unico all'interno del set quindi se inserite lo stesso elemento più di una volta non verrà ripetuto ma avrete solo un'istanza di ogni occorrenza di quell'elemento in questo caso abbiamo le medaglie gold, silver e bronze e di nuovo vogliamo fare una stampa vedete che è esattamente lo stesso identico costrutto for off e andiamo a fare un print all'interno del ciclo e questo perché i set sono anche loro iterabili stessa cosa con i map i map anche questi se non li avete mai utilizzati sono una versione un po' più strict diciamo di quello che generalmente si fa con gli object literal e vi permettono di associare una chiave a un valore i map pure sono degli oggetti iterable e in questo caso la cosa interessante che potete vedere qui è che quando andiamo a fare il for off stavolta otteniamo un array di due elementi in cui il primo elemento è la chiave e il secondo elemento è il valore quindi possiamo utilizzare all'interno del for off il destructuring e andare a strapolare direttamente in questo caso la chiave che sarà il nome del judoka e medals che sarà il numero delle medaglie vinte quindi il valore che abbiamo associato a quella chiave e in questo modo possiamo andare a creare per ogni print questa stringa che dice questo dato judoka ha vinto un certo numero di medaglie durante il corso della loro carriera sportiva ma che cosa possiamo fare se invece abbiamo degli oggetti degli object literal la stessa cosa funziona esattamente l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è che se con gli oggetti dobbiamo andare a rappare quindi a mettere attorno alla variabile che va a rappresentare questo object literal questa chiamata object.entries è il motivo per cui dobbiamo fare ciò vi faccio innanzitutto vedere che questo va a produrre esattamente lo stesso output rispetto all'esempio precedente ma la domanda potrebbe essere che succede se proviamo a fare un for off direttamente sulla variabile medalist praticamente rimuovendo questo object.entries e quello che succede se facciamo questo è che abbiamo un errore e l'errore è è abbastanza espressivo perché ci dice vedi che medalist che è un object literal non è iterable e questo perché diciamo nel core javascript gli oggetti di tipo object literal non implementano questi protocolli di conseguenza questa sintassi for off non sa cosa fare con questo oggetto dice guarda questo è un errore non puoi provare a fare questo tipo di iterazione su un oggetto che non è iterable e invece se utilizziamo object.entries quella funzione produce un iterable andando a prendere i valori che stanno all'interno dell'oggetto quindi questo è il motivo per cui è importante utilizzare object.entries potete anche utilizzare object.keys and object.values se vi interessano solo le chiavi o solo i parole chiaramente e l'ultima cosa che vorrei ripassare insieme a voi è lo spread operator lo spread operator vi consente di prendere un iterable in questo caso un semplice array e farci varie cose interessanti ad esempio in questo primo esempio qui vogliamo creare un array di numeri che vanno da 5 a 0 e abbiamo il nostro countdown che va da 3 2 1 e 0 e semplicemente quello che vogliamo fare è andare a concatenare alla fine di un array che contiene 5 e 4 tutti i valori che stanno all'interno di countdown e utilizzando questa sintassi punto 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 countdown praticamente stiamo dicendo a javascript vai ad esplodere tutti quei valori e inseriscivi all'interno di questa array e questa è una sintassi molto espressiva che ci permette di fare operazioni che in genere avremmo dovuto fare con un classico for loop andando a fare il push manualmente quindi è un sintassi molto interessante e la cosa ancora più interessante è che funziona con qualsiasi tipo di iterable quindi se aveste avuto un set aveste potuto fare la stessa identica cosa e così via o anche se aveste avuto i vostri iterator personalizzati un altro esempio che utilizza sempre lo spread operator è quello che vi permette di dire non solo di andare a inserire tutti i valori all'interno di un array ma anche ad esempio se state facendo una chiamata o una funzione di andare a spalmare diciamo tutti questi valori come argomenti di una chiamata o una funzione ad esempio console.log accetta un numero arbitrario di argomenti e andrà a stamparli separandoli da uno spazio quindi il primo argomento che gli stiamo dando è una stringa dopodiché tutti gli altri argomenti saranno tutti i valori che stanno all'interno di countdown quindi vedremo countdown data 3 2 1 e 0 che sono i valori che abbiamo nel nostro array e adesso l'esempio quello a cui arriveremo un po' alla fine giusto per farvi capire qual è diciamo il livello di potenza a cui possiamo arrivare con gli iterators è quello degli async iterators o in questo specifico caso async iterable e l'idea appunto è come vi dicevo prima come facciamo a processare una lista di oggetti in cui gli oggetti non sono immediatamente disponibili ma arriveranno pian piano nel tempo e il fatto che arrivino nel tempo è in qualche modo associato a un'operazione asincrona quindi chiamare un API leggere qualcosa su un file system e così via in questo specifico esempio quello che vi voglio far vedere è non so se avete mai utilizzato DynamoDB ma è un po' un esempio che si può mappare a qualsiasi tipo di API che presenta una paginazione in questo caso abbiamo la possibilità di andare a fare una lista di tutte le tabelle che sono disponibili nel nostro account Amazon sotto DynamoDB e se abbiamo tantissime tabelle Amazon ci darà delle risposte paginate quindi non avremo se abbiamo migliaia di tabelle non avremo una lista di mille elementi ma avremo una prima porzione ad esempio con 20 elementi poi dal 21esimo al 40esimo e così via fino alla fine e con questo esempio quello che facciamo è andiamo a importare l'SDK di AWS creiamo un nuovo client dopodiché questa è la parte più importante quello che possiamo fare è fare for await e questo sta proprio a dire per ogni elemento ed ogni elemento richiede appunto un'operazione asincrona questo elemento lo chiameremo page di questa lista paginata di tabelle e quello che succederà è che all'interno di questo ciclo per ogni iterazione verrà caricata una nuova pagina quando questa pagina è disponibile il ciclo verrà eseguito e una pagina non è altro che un array di nomi di tabelle quindi a questo punto facciamo un altro ciclo in questo caso sincrono non dobbiamo utilizzare await e possiamo andare a stampare tutte le tabelle presenti in quella specifica pagina così via continueremo l'iterazione di nuovo passando al for await finché non avremo stampato tutte le tabelle di ogni pagina ok adesso che abbiamo visto un attimo la sintassi andiamo a discutere più nel dettaglio cosa sono questi iteration protocol e iniziamo con l'iterator protocol l'iterator protocol semplicemente dice che in javascript un oggetto viene definito iterator se contiene una funzione chiamata next e quando andiamo a chiamare questa funzione next ci restituisce un oggetto che contiene due chiavi una che si chiama don ed è un booleano quindi può essere true o false e un'altra che si chiama value e conterà un valore arbitrario vediamo subito un esempio facciamo finta che vogliamo creare un iterator che ci permette di creare dei countdown quindi ogni volta che chiamiamo questa funzione con un valore mettiamo ad esempio 10 quando andremo a iterare produrrà tutti i valori che vanno da 10 a 0 se gli diamo 5 produrrà tutti i valori da 5 a 0 come facciamo a implementare il protocollo iterazione secondo la definizione che abbiamo vista in precedenza ok abbiamo una funzione sappiamo che vogliamo accettare un unico argomento quindi in questo caso start dopodiché assegniamo ci serve una variabile temporanea per tenere traccia di quale sarà il nostro valore corrente all'inizio il valore corrente sarà appunto il valore di partenza che abbiamo ricevuto come argomento e adesso qui è dove iniziamo veramente a implementare il protocollo iterazione quindi il protocollo iterazione diceva dobbiamo restituire un oggetto ok stiamo restituendo un oggetto questo oggetto deve contenere una funzione che si chiama next ok in questo oggetto abbiamo una funzione che si chiama next cosa dovrà fare questa funzione una volta che viene chiamata deve restituire un altro oggetto che contiene i valori don e value ma in realtà qui abbiamo due casi un caso in cui l'iterazione è finita quindi nel momento in cui il valore successivo è minore di zero significa che abbiamo finito allora in questo caso possiamo restituire soltanto questo un oggetto che contiene soltanto don true appunto significa l'iterazione è finita non posso produrre più nessun valore nel caso invece generico quando l'iterazione non è finita possiamo semplicemente dire don false e il valore è il valore corrente e andremo pure a decrementare questo valore in modo che nell'iterazione successiva avremo il valore diminuito di uno e se vogliamo vedere un esempio di come utilizzare questa questa specifica funzionalità che abbiamo implementato possiamo creare un nuovo countdown dicendo create countdown countdown 3 dopodichè possiamo continuare a chiamare countdown.next finché non vedremo che don ci restituisce true e vedete appunto il protocollo in questo momento non stiamo facendo nulla di speciale abbiamo solo seguito il protocollo ma stiamo utilizzando il protocollo proprio in modo diretto cioè stiamo andando noi manualmente a chiamare .next finché non ci stufiamo di chiamare .next o finché non vediamo che non c'è più nessun valore da andare a estrapolare bene parliamo invece dell'iterable protocol quindi quello che abbiamo visto è l'iterator protocol ma esiste anche l'iterable protocol e in realtà è una sorta di variante vi darò in un attimo qual è la mia la mia interpretazione per distinguere un po' i due ma affrontiamo prima la definizione canonica un oggetto viene detto iterable se implementa questa questo metodo che viene identificato come chiocciola chiocciola iterator ma in realtà lo vedete spesso come symbol punto iterator quindi un oggetto iterable se implementa questo specifico metodo symbol iterator il quale è una funzione che non riceve nessun argomento però restituisce un oggetto che è un iterator quindi diciamo per creare un oggetto che è iterable dobbiamo aver capito cos'è un iterator e semplicemente un iterable è un oggetto che ha una funzione che restituisce un iterator se volete vederla un attimo in un modo più semplice a me piace descriverla così un iterable è in generale il concetto che vogliamo andare a dire che un dato oggetto presenta un modo per fare un'iterazione l'iterator invece è un po' la struttura di basso livello che vi dice ok adesso che ciò ho deciso come fare questa iterazione questo oggettino mi permette di dire .next 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 ed estrapolare gli elementi successivi da questa iterazione quindi l'iterable potete vedere un po' come un concetto un po' più astratto è un oggetto che in qualche modo può essere iterato iterato come? fornendovi un iterator e l'iterator è un oggetto su cui potete chiamare .next per andare a estrapolare tutti i valori e cerchiamo di implementare lo stesso esempio del countdown però questa volta implementando questo protocollo iterable quindi vogliamo andare a dire quando creo un countdown questo è un oggetto che intrinsecamente voglio che sia iterable il che significa che potremo ottenere un iterator da questo oggetto quindi la signature della funzione è esattamente la stessa create countdown riceve un parametro il parametro è start e dopodiché andiamo a inizializzare di nuovo tenere tracce di qual è il valore successivo adesso dobbiamo restituire un iterable e un iterable che cos'è? è un oggetto che implementa una funzione che non accetta nessun argomento che ha questo nome particolare symbol .iterator e questa funzione deve restituire un iterator e sorpresa tutto questo codice è esattamente lo stesso dell'esempio precedente perché appunto sappiamo che tutto questo codice ci permetteva di definire un iterator quindi l'unica cosa che sta cambiando qui è che stiamo aggiungendo un ulteriore livello di wrapping se volete che semplicemente sta dicendo da questo oggetto se vuoi un iterator chiama questo metodo qui che abbiamo aggiunto e lui te lo dà e la cosa interessante è che a questo punto possiamo utilizzare la sintassi del for off quindi se avete un iterable a quel punto su quell'oggetto potete direttamente utilizzare la sintassi for off quindi vedete qui che abbiamo creato un countdown esattamente come prima ma stavolta non dobbiamo necessariamente chiamare dot next manualmente ma possiamo semplicemente fare il for off e non riceviamo quell'oggettino che ci dice done true o false è un valore ma riceviamo direttamente il valore e questo ciclo finirà quando non ci saranno più valori da estrapolare dall'iterator quindi vedete che qui produciamo direttamente 3, 2, 1 e 0 e in questo modo abbiamo creato il nostro primo oggetto custom che implementa questo protocollo di iterable e per cui possiamo andare ad eseguire il for off direttamente su questo oggetto custom e adesso forse vi state chiedendo ma è possibile che un oggetto sia allo stesso tempo sia un iterator e un iterable ed è una domanda fantastica e la risposta in realtà è sì perché i due protocolli non sono diciamo antagonisti tra di loro nulla ci vede di implementare su un dato oggetto entrambi i protocolli e in questo esempio abbiamo un iterator molto semplice che restituisce elow la string elow all'infinito quindi non finirà mai e vogliamo che questo oggetto sia sia un iterable che un iterator come facciamo? allora prima di tutto implementiamo il protocollo iterator e quindi dobbiamo semplicemente implementare la funzione next e questa funzione next restituisce un oggetto don false e value elow ogni volta che chiameremo next avremo sempre all'infinito questo valore dopodiché possiamo anche implementare il protocollo iterable e semplicemente quello che dobbiamo fare è dire restituisci te stesso perché sappiamo che symbol dot iterator deve restituire un iterator e se restituiamo se stesso questo oggetto è anche un iterator quindi in questo modo stiamo implementando sia il protocollo iterator che il protocollo iterable e questo ci dà la massima flessibilità sia di chiamare dot next se vogliamo manualmente chiamare dot next o andare a fare un for off se vogliamo andare a iterare in questo caso itereremo all'infinito quindi in questo caso andare a fare il for off non so se è una idea geniale però appunto l'idea è che potete esporre entrambe le API all'utente e in alcuni contesti può avere senso o utilizzare le API di più basso livello quindi andare a chiamare next direttamente o andare a ciclare su tutti i valori con un for off finché tutti questi valori non vengono completati e adesso vi presento un nuovo argomento i generator non so se avete mai utilizzato le generator function ma in questo contesto sono molto interessanti perché una generator function va a produrre un oggetto che sia un iterator e un iterable e quindi in un certo senso i generator sono una sorta di syntactic sugar che ci permette di creare sia iterator che iterable in un modo più semplificato rispetto a andare manualmente a seguire questi protocolli di iterazione rivediamo sempre lo stesso esempio che abbiamo discusso finora quindi come facciamo a implementare un countdown però utilizzando i generator se non avete mai utilizzato le generator function si distinguono per il fatto di avere un asterisco prima del nome della funzione e questo asterisco dà alla funzione un superpotere che è quello di utilizzare la parola chiave yield all'interno del corpo della funzione e in un attimo vi spiegherò cosa significa quindi l'idea è la seguente stiamo creando un generator andando a mettere questo asterisco questo generator comunque può ricevere gli argomenti di inizializzazione come una qualsiasi funzione e in questo caso vogliamo ricevere start che sarà il valore iniziale del nostro countdown dopodichè iniziamo a fare un ciclo e questo ciclo semplicemente va dal valore iniziale start fino al valore zero quindi è un ciclo che va a decrementare questo valore start fino ad arrivare a zero e all'interno di questo ciclo l'unica cosa che facciamo facciamo questo yield del valore corrente del nostro indice che cosa succede ogni volta che javascript esegue questo yield la cosa interessante del generator function è che ogni volta che viene invocata questa istruzione yield possiamo immaginarci come se lo stato di questa esecuzione di questo specifico generator viene in qualche modo congelato viene restituito in qualche modo questo valore attuale di cui stiamo facendo yield a chi ha chiamato questo iterator e nel momento in cui chiameremo di nuovo questa funzione si ricorderà qual era lo stato precedente e ripartirà l'esecuzione dal punto in cui era stata lasciata quindi la prima volta che eseguiremo questo yield verrà diciamo restituito il valore start l'esecuzione verrà sospesa quando richiameremo nuovamente questo generator verrà si ricorderà ok l'ultima volta era arrivato a 10 quindi il valore di i è 10 era arrivato alla riga 3 quindi continuo la mia esecuzione assumendo che i sia 10 dalla riga 3 quindi reinizzerà il loop decrementerà il valore 10 a 9 rifarà di nuovo lo yield quindi restituirà di nuovo 9 congelerà di nuovo tutto e aspetterà di essere chiamato nuovamente e quindi come facciamo utilizzare questa funzione la possiamo utilizzare sia come un iterator che come un iterable come un iterator appunto una volta creato l'oggetto che viene restituito chiamando la cosa interessante del generator scusate se non l'ho spiegato benissimo e che ogni volta che chiamate un generator vi va a restituire un oggetto quindi in questo caso se chiamiamo create countdown ci restituisce un oggetto che chiameremo qui countdown e questo oggetto è sia un iterator che un iterable come abbiamo detto quindi possiamo decidere di usarlo come un iterator andando a chiamare dot next manualmente oppure come un iterable andando a fare il for off e consumando tutti i valori di questo generator ok finora abbiamo parlato di operazioni sincrone quindi abbiamo parlato di chiamo dot next e dot next in modo sincrono mi andrà a calcolare il valore successivo e restituirlo ma abbiamo detto che questi protocolli esistono anche nella variante asincrona quindi come facciamo a rappresentare diciamo la variante asincrona sia del iterator che dell'iterable protocol e iniziamo con l'iterator protocol la definizione è praticamente la stessa l'unica differenza è che si chiama async iterator e deve di nuovo implementare l'oggetto per essere un async iterator deve avere un metodo chiamato next e ogni volta che chiamiamo questo next stavolta restituisce una promise che risolve in un oggetto che contiene le chiavi don e value quindi l'unica differenza è che invece di restituire ogni volta che chiamiamo next invece di restituire direttamente un oggettino che contiene don e value restituisce una promise che a un certo punto verrà risolta e il valore su cui risolverà quella promise sarà l'oggettino di tipo don value che viene specificato al protocollo iterazione quindi di nuovo l'unica differenza è il fatto che non restituiamo valori direttamente ma restituiamo una promise che quel valore prima o poi sarà disponibile e possiamo immaginarci il nostro esempio del countdown in modo asincrono quindi immaginiamo che adesso prima tra un valore e un altro vogliamo aspettare che passi un secondo e quindi questi valori vengono generati con un delay per fare ciò possiamo utilizzare questa fantastica funzione che è disponibile su node.js da node 16 credo quindi molto recente come funzionalità è sostanzialmente una versione di set timeout in cui è stato fatto un promissify quindi se utilizzate versioni più recenti più meno recenti di node potete fare il promissify voi e avete diciamo lo stesso tipo di funzionalità dopodiché la signature del nostro countdown è molto simile alla precedente l'unica variante è che adesso abbiamo un delay che di default è un secondo ma può essere personalizzato tutto il resto è uguale quando arriviamo a next sappiamo che dobbiamo restituire una promise perché adesso stiamo implementando la versione asincrona il modo più semplice di fare ciò è avere una funzione async e in questa funzione async possiamo la prima cosa che dobbiamo fare è aspettare quel delay quindi andiamo a fare una wait di questo set timeout dopodiché tutto il resto del codice è esattamente uguale quindi l'unica differenza è che questa funzione async quindi restituerà una promise e questa promise risolverà al valore o quello che vedete riga 9 o quello che vedete riga 11 in base alle condizioni dell'iterazione corrente quindi l'unica differenza che c'è rispetto al protocollo precedente è async che ci permette restituire una promise e poi il fatto che effettivamente dobbiamo fare qualche operazione asincrona questo è un esempio un po' banale in cui stiamo solo aspettando ma immaginate che qui possiate fare un API call possiate andare a leggere il file system aspettare dei byte su un socket di rete e così via come facciamo utilizzare questo tipo di implementazione quindi abbiamo un async iterator come lo utilizziamo anche qui dobbiamo semplicemente chiamare manualmente dot next finché non vediamo che i valori sono finiti quindi finché non vediamo che don ci restituisce true la differenza però è che dobbiamo andare a fare await ogni volta che andiamo a chiamare dot next perché altrimenti ci restituirà di base una promise quindi è importante che ogni volta andiamo a chiamare next mettiamo await così da aspettare che quella specifica iterazione sia completata prima di chiamare l'iterazione successiva e se eseguiamo questo specifico esempio potete vedere che i valori non sono immediatamente disponibili ma c'è un minimo delay che sarà circa un secondo tra un valore e l'altro ok vediamo adesso la versione async dell'iterable protocol è di nuovo molto uguale alla versione sincrona l'unica differenza è che stavolta dobbiamo chiamare la nostra funzione async iterator piuttosto che symbol dot iterator e stavolta invece che restituire un iterator quella funzione deve restituire un async iterator quindi di nuovo andiamo a riprendere il nostro esempio molto velocemente il codice resta praticamente uguale l'unica differenza è che qui abbiamo async iterator e questa funzione andrà a restituire tutto il codice che abbiamo visto in precedenza nell'esempio precedente perché sappiamo che l'esempio precedente è un async iterator e a questo punto acquisiamo il superpotere che un oggetto countdown ci permette di accedere a tutti i valori che vengono prodotti in modo asincrono da questo oggetto con la sintassi for await quindi a questo punto abbiamo semplificato al massimo l'accesso a questa sequenza asincrona di valori perché possiamo semplicemente dire for await e questo ciclo verrà eseguito per ogni elemento che arriverà nel tempo e ovviamente è possibile utilizzare anche in questo caso i generators e una generator function in javascript può anche essere asincrona quindi possiamo andare a mettere sia la keyword async di fronte alla keyword function e sia l'asterisco prima del nome della funzione e questo praticamente dà alla nostra funzione due superpoteri uno che è quello che possiamo utilizzare await perché è una funzione asinc ma possiamo anche utilizzare yield perché è un generator e quello che succederà è esattamente come abbiamo visto prima nel caso di un generator semplice ogni volta che viene eseguita questa riga che contiene yield lo stato di esecuzione di questa funzione viene in qualche modo congelato e nell'iterazione successiva ripartirà dall'ultimo diciamo dall'ultimo yield trovato quindi ci terrà traccia in automatico del valore corrente non dobbiamo noi memorizzare quella variabile next value quindi vedete che la sintassi diventa molto più compatta ovviamente c'è molta più roba da capire qui non è uno strumento che va sottovalutato ma una volta in cui riuscite a comprendere cosa succede in un async generator vi permetterà di avere una sintassi molto più compatta e di esprimere iterazioni anche molto più complesse con meno codice e a questo punto il nostro countdown di nuovo potremmo fare il for await e ci permette in qualche modo di accedere a tutti gli elementi in modo asincrono facendo semplicemente un for loop e se eseguiamo questo esempio vedete che stavolta accediamo direttamente ai valori non dobbiamo andare a chiamare next manualmente non dobbiamo andare a vedere se next restituisce done true o done false bene quando conviene utilizzare gli async iterator sostanzialmente quando dovete fare iterazione sequenziale quindi quando avete una sequenza di oggetti di valori sia asincrona che asincrona e dovete processarli in ordine gli esempi classici sono quelli appunto della paginazione come abbiamo visto prima ma un altro esempio che si incontra parecchio è quando state consumando dei job da una coda quindi una coda generalmente remota immaginate non lo so SQS se state utilizzando AWS o qualcosa come Rabbit o anche se state leggendo degli stream da Kafka quindi l'idea è appunto che volete consumare tutti questi job in ordine e ogni volta che ne avete uno lo dovete processare prima di andare a prendere il job successivo quindi in questi contesti gli async iterator sono un ottimo strumento perché vi consentono di avere un asintassi molto leggibile molto semplice e quindi facile sia da comprendere che da manutenere e adesso arriviamo alla parte conclusiva di questo talk in cui una volta apprese diciamo tutte queste basi ovvero cosa sono i protocolli di iterazione e come facciamo a implementarli noi se vogliamo creare degli iterator personalizzati ci sono tutta una serie di dettagli aggiuntivi un po' di approfondimento che secondo me è bene conoscere perché poi magari quando cominciate a scrivere il codice più serio in produzione potreste trovarvi di fronte a delle brutte sorprese quindi spero di andare a coprire alcune di queste brutte sorprese così da far sì che siete più pronti a utilizzare queste tecniche in modo efficace e corretto soprattutto allora il primo interessante esempio è quello che se avete mai utilizzato gli stream in Node.js che a me personalmente è un argomento che piace tantissimo è uno strumento che quando posso utilizzo molto volentieri però mi rendo conto che non è lo strumento diciamo più semplice da capire c'è una sorta di curva d'apprendimento non banale quindi la cosa che mi piace parecchio è che nelle ultime versioni di Node.js se non sbaglio da Node.js però forse pure una delle versioni 12 già supporta questo tipo di funzionalità tutti i readable stream sono anche degli async iterator il che significa che potete fare in questo esempio qui quello che stiamo facendo è leggere un file molto grande infatti l'abbiamo chiamato big data csv immaginatevi che contenga milioni di righe quindi non volete leggerlo in memoria direttamente ma volete consumare le righe o comunque una sequenza di byte diciamo in un modo a finestre di dati non volete leggere tutto in una volta ma volete leggere una certa quantità di byte poi spostarvi alla finestra successiva finché non leggete tutto il file e gli stream sono lo strumento perfetto in OGS per fare questo tipo di operazioni ed essendo anche degli async iterator quello che possiamo fare ad esempio qui se vogliamo contare quanti byte ci sono in questo file inizializziamo una variabile byte e poi possiamo fare un semplice for await per ogni chunk che avverrà da questo stream quindi per ogni finestra di dati vai a prendere la lunghezza di questa finestra di dati e aggiungila al conteggio dei byte quando questo for await quindi quando questa iterazione asincrona verrà completata significa che abbiamo letto tutto il file e a quel punto possiamo fare un console log e dire questo è il numero di byte che abbiamo trovato all'interno di questo file e se conoscete gli stream probabilmente vi state chiedendo ok ma come facciamo per gestire la backpressure perché questo è uno dei problemi più classici degli stream in OGS e in realtà esiste un modo pure abbastanza carino per fare ciò continuando a utilizzare gli stream come async iterator quindi il problema è la backpressure se non lo conoscete ve lo spiego molto velocemente sostanzialmente quando immaginiamo di dover copiare un file da un disco a un altro per qualche motivo il disco di partenza è molto più veloce a leggere i dati di quanto il disco di destinazione sia veloce a scriverli caso classico stiamo copiando dal disco locale a un disco di rete quindi se stiamo copiando un file molto grosso quello che può succedere è che andiamo a leggere molto velocemente quindi accumuliamo tutti i dati in memoria e quando scriviamo non riusciamo a scriverli così velocemente quindi la memoria continuerà a crescere finché non avremo più memoria a disposizione la backpressure è appunto il fatto che la scrittura non riesce a tenere il passo della lettura e può essere gestita questa cosa nel momento in cui ci rendiamo conto che stiamo facendo stiamo accumulando troppa memoria quello che bisogna fare è appunto smettere di leggere finché la quantità di dati attualmente in volo diciamo non viene totalmente scritta sul disco a quel punto possiamo continuare a rileggere riscrivere e così via finché non completiamo questa lettura quindi immaginate la backpressure un po' come un indicatore che ci dice aspetta sta accumulando un po' troppa memoria fermati un attimo dammi il tempo di finire quello che sto facendo dopodiché puoi riniziare a leggere i chunk successivi e questo indicatore ci continua a dire quando arriviamo a livelli critici e quando bisogna fermarsi la backpressure con gli async iterator può essere gestita in questo modo dobbiamo utilizzare possiamo utilizzare non è ovviamente un obbligo questa funzione che si chiama once che ci permette di dire esegui qualcosa quando un evento accade ed è interessante questa funzione perché ci permette di fare ciò con delle promise quindi possiamo utilizzare async await dopodiché andiamo a creare il nostro stream di lettura in questo caso stiamo di nuovo leggendo un file molto grande destination stream stiamo facendo qui un'assunzione che sia qualcosa di lento non ha importanza esattamente cos'è semplicemente vogliamo passare tutti i dati a questo stream però questo stream sappiamo che sarà lento quindi verosimilmente avremo questo effetto backpressure di accumulare troppa memoria e di doverci fermare dopodiché iniziamo a leggere questo stream di partenza quindi andiamo a leggere tutti i dati del dello stream big data csv facendo questo for await quindi in modo asincrono riceveremo ogni chunk e per ogni chunk andremo ad eseguire un'iterazione di questo loop la cosa interessante è che se conoscete gli stream sapete che quando andate a scrivere i dati su uno stream utilizzando la funzione write verrà restituito un valore booleano e questo valore booleano potete leggerlo come ho raggiunto questo threshold sì o no ovvero posso continuare a scrivere senza troppi problemi oppure mi devo fermare quindi se andate a vedere un valore di tipo true significa che state ancora all'interno dei valori normali non bisogna preoccuparsi quindi potete continuare se invece ricevete false significa aspetta fermati un attimo perché abbiamo raggiunto livelli di memoria preoccupanti quindi siamo un attimo in una situazione di dover gestire la backpressure nel caso in cui non possiamo continuare e dobbiamo gestire la backpressure cosa possiamo fare è semplicemente bloccare questo loop asincrono semplicemente dicendo ok allora adesso devo aspettare che arrivi questo evento drain dallo stream di destinazione prima di poter continuare l'iterazione quindi andare andare a mettere una wait all'interno di un for await non fa altro che andare a bloccare l'iterazione finché la promise che stiamo aspettando effettivamente non si risolva e grazie a questo trucco possiamo andare a vedere ad aspettare il segnale dello stream di destinazione che si chiama drain che appunto sta a indicare che tutto il lavoro è stato fatto e a questo punto possiamo continuare il nostro loop successivo quindi in questo modo stiamo praticamente bloccando lo stream dal continuare a leggere perché abbiamo bloccato questa iterazione e aspettiamo questo segnale drain per poter passare al ciclo successivo quindi a questo punto quando arriveremo alla riga 12 è sicuro poter continuare a leggere i dati e continuiamo ad iterare in questo modo adesso questo è un sacco di lavoro abbiamo dovuto scrivere un sacco di codice solo per passare i dati da uno stream di tipo readable a uno stream di tipo trasformo di tipo writable e cercare di gestire la backpressure manualmente quindi il mio consiglio è ok figo quello che volete voi bello ho usato gli async iterator che sono una feature nuova però effettivamente se facciamo le cose base che abbiamo sempre fatto utilizzando ad esempio pipeline forse sarebbe stato più facile e vi faccio vedere come un esempio un po' più realistico è vogliamo prendere questo big data fare una compressione brottoli e salvarlo sul file system con l'operatore pipeline questa cosa diventa semplicissima perché dobbiamo sostanzialmente importare oltre le libri che ci servono per i vari stream lettura scrittura compressione creare i tre stream stream di partenza stream di compressione e stream di scrittura sul disco e dopodiché semplicemente possiamo fare una wait della pipeline collegando questi tre stream in ordine e questa pipeline gestisce la backpressure e gestisce tutto per noi quindi sintassi semplicissime sia da leggere che da scrivere quindi questo è uno di quei pitfall interessanti perché spesso imparato una nuova funzionalità la si vuole utilizzare a tutti i costi ma non sempre la funzionalità più moderna è quella più idonea a tutti i casi d'uso quindi prendete sempre tutte queste nuove lezioni un po' con le pinze e cercate di capire quando effettivamente c'è un vantaggio e quando magari vi state solo complicando la vita per cercare di utilizzare una feature un po' più innovativa un'altra cosa interessante è che ogni event emitter in Node.js può essere trasformato in una sync iterator quindi voi potete invece che fare il listen utilizzando on ad esempio potete fare un'iterazione tipo asincrona che vi permetterà di fare un loop che andrà a ciclare per ogni volta che quell'evento viene prodotto e vediamo un esempio in modo che sia un attimo più chiaro quello che voglio dire l'esempio che mi è venuto in mente non so se avete ma utilizzato questo modulo che si chiama globe che trovate su npm il quale vi permette di creare un'espressione tipo quella che scriviamo in bash e questa espressione ci permette di andare a trovare sul file system tutti i file che matchano quell'espressione ad esempio qui stiamo dicendo voglio creare un matcher che a partire dalla cartella corrente troverai i file tutti i file con estensione .js che si trovano o nella cartella corrente o in una delle qualsiasi sottocartelle che si trovano a partire dalla cartella corrente fatto ciò quello che possiamo fare è utilizzando questa funzionalità chiamata on dal package e questo è un package che trovate già in node.js quindi è nel core di node.js questo on ci permette di dire crea un iterator anzi in questo caso un iterable una sync iterable a partire da questo evento emitter che si chiama matcher e ascoltando tutte le volte che l'evento match avviene e quello che vi verrà dato ad ogni iterazione è un array che contiene tutti i dati che vengono passati all'evento quindi se ci sono più di più di un valore che vi troverete nell'evento avrete un array che conterrà uno, due, tre, quattro valori quelli che esistono nell'evento in questo caso matcher la funzione globe ci dà solo il path del file che ha trovato per ogni file che troverà con estensione js triggererà un evento di tipo match e quell'evento conterrà il path completo di quel file quindi possiamo fare il destructuring per avere il file path e a questo punto semplicemente vogliamo stamparlo quindi questo codice quello che fa è crea un una sync iterator a partire da un event emitter e fa un loop che ci permette di stampare tutte le volte che quell'evento accade il contenuto di quell'evento e in questo modo possiamo stampare tutti i file js che troviamo all'interno della nostra cartella e adesso anche qui c'è un bitfall molto importante che è quello che al di fuori di questo for await questo codice il codice che sta subito dopo questo for await non verrà mai raggiunto quindi il codice che vedete qui alla riga 10 e 11 non verrà mai eseguito e se ci pensate come può fare il nostro il nostro helper on che vedete qui a capire quando logicamente questa iterazione è finita perché l'unica cosa che sta facendo è semplicemente dire ok ogni volta che vedo questo evento match ti faccio partire un'altra iterazione e tu potrai fare un altro ciclo ma non c'è nessun modo con cui possiamo andare a capire quando è che sono finiti questi eventi match non è una cosa che per me è stata ovvia all'inizio ho dovuto sbattere la testa su questo problema e cercare di fare un debug per capire che cosa stava succedendo ma ragionandoci se voi pensate ok voglio implementare da solo questa funzionalità on quindi voglio creare una sync iterator custom e adesso sappiamo come fare perché abbiamo visto i protocolli che prende questo matcher si mette a fare il listen degli eventi match e per ogni volta che quell'evento match viene triggerato da matcher farà una nuova iterazione bene non c'è nessun meccanismo che ci sta dicendo quando non ci saranno più eventi match potenzialmente potremmo avere eventi match all'infinito quindi in realtà quando utilizziamo questo tipo di costrutto bisogna stare molto attenti perché stiamo dando per scontato che dalla riga 6 alla riga 8 non usciremo mai quindi all'infinito il nostro programma continuerà ad eseguire questa istruzione quando saranno finiti gli eventi match il programma comunque non verrà completato resterà lì ad aspettare e non eseguirà la riga 10 e 11 che cosa possiamo fare per ovviare a questo problema in realtà la funzione on che abbiamo visto qui ha un modo fornisce un API che ci permette di andare a capire qual è il meccanismo con cui ci viene segnalato che non ci sono più eventi il metodo è quello di utilizzare gli abort controller quindi possiamo passare un abort controller signal all'interno del metodo on e il che significa noi in anticipo prima di fare questo for loop dobbiamo andare a costruire un abort controller e manualmente creare questo ascoltare in questo caso l'evento end che sappiamo che è quello che ci viene dato quando non ci sono più file js e a quel punto andare a triggerare la funzione abort sulla abort controller quello che succede è una cosa molto interessante perché praticamente in realtà quello che succederà è che quando questo metodo on vede che questo signal ha dato il segnale di abort l'unica cosa che fa è tira un'eccezione che si chiama abort error quindi in realtà dobbiamo andare a fare un ulteriore lavoro che è quello di andare a mettere un try catch attorno al nostro for await fatto ciò all'interno della funzione catch dobbiamo pure stare attenti perché non è detto che questo sia l'unico errore che possiamo avere magari c'è veramente un errore nella nostra logica quindi dobbiamo andare a gestire tutti gli errori che non sono di tipo signal aborted ovvero tutti gli errori in cui una volta arrivati qui il nostro segnale non aveva ancora triggerato e in quel caso possiamo ad esempio stampare l'errore e uscire ma qualora l'errore sia di tipo abort error possiamo semplicemente ignorarlo perché a quel punto il try catch farà sì che il ciclo viene interrotto e passerà alla riga 21 quindi questo di nuovo è un tacco di lavoro perché abbiamo voluto utilizzare una feature carina che è quella di utilizzare gli async del retro con gli eventi però ci sono dei problemi che è bene conoscere e capire quando vale la pena effettivamente ricorre a questa soluzione quando invece ci stiamo complicando la vita e se sappiamo in anticipo quanti elementi ci aspettiamo quindi quante volte quell'evento verrà triggerato un'alternativa più semplice è quella di fare un break all'interno nel forawait quindi contare ogni volta all'interno del ciclo quante volte stiamo eseguendo quel ciclo quando raggiungiamo il numero aspettato possiamo fare un break e quello è un altro modo semplice per uscire dal loop e adesso l'ultimo esempio che vi voglio dare spero che siate ancora vivi che non vi annoiate a morte è quello di Dino non so se avete avuto modo di guardare Dino una cosa fighissima di cui si vantavano e tuttora si vanto tantissimo è quello che puoi fare un server HTTP che utilizza il costrutto degli async iterator ovvero qualcosa di questo tipo e qui la sto rifacendo in Node.js sfruttando tutto quello che abbiamo imparato finora quindi in Node.js abbiamo create server from HTTP che sappiamo ci permette di creare un server HTTP abbiamo visto questa funzione on che ci permette di ascoltare degli eventi e creare un async iterator a partire da eventi su un dato event emitter e sappiamo pure possiamo creare un server e metterlo in ascolto ma sappiamo pure che un server ogni volta che c'è una richiesta ci darà l'evento request quindi a questo punto possiamo andare a utilizzare la funzione on sul nostro oggetto server andando a vedere gli eventi di tipo request per costruire un async iterator e fare un loop su questo async iterator in questo loop riceveremo sia la richiesta che la risposta e a questo punto all'interno del loop stiamo effettivamente gestendo ogni singola richiesta e in questo caso vogliamo semplicemente rispondere a ogni richiesta HTTP con questa stringa hello dear friend bene questa cosa è interessantissima ed è pure semplice non abbiamo bisogno di utilizzare Dino per utilizzare questo pattern però potrebbe venirvi a naturare una domanda del tipo ma a questo punto se ho due richieste simultanee che cosa succede le stiamo processando in un modo concorrente o le stiamo processando una dopo l'altra che chiaramente essendo un web server vogliamo processare quante più richieste in modo concorrente sia possibile se no chiaramente andiamo a impattare le performance del nostro server man mano che il traffico cresce e la risposta a questa domanda è stiamo processando le cose in modo concorrente o le stiamo processando in modo sequenziale e questo è un altro caso diciamo pericolosissimo in cui utilizzare gli async iterator ovvero se noi andiamo a utilizzare una wait all'interno dell'iterazione a quel punto l'esecuzione diventa non più concorrente ma diventa sequenziale quindi finché non abbiamo finito di rispondere a una richiesta la richiesta successiva non verrà neanche presa in considerazione ma aspetterà in fila e questa è una cosa pericolosissima perché se ad esempio facciamo una cosa del genere in cui in questo caso andiamo a mettere un time out fittizio prima di rispondere giusto per dire dovremmo fare una computazione in qualche modo costosa per ogni richiesta per poi poter rispondere quello che succederà qui è che la prima richiesta che arriverà aspetterà un secondo e riceverà la risposta ma se nel frattempo arriverà un'altra richiesta non verrà presa in carico subito ma verrà messa in coda e verrà presa in carico solo quando la prima richiesta è finita quindi immaginate di avere 10 utenti collegati simultaneamente tutte e 10 fanno la stessa richiesta allo stesso momento il decimo utente riceverà una risposta dopo 10 secondi se non dopo e ovviamente come vi potete immaginare questo distrugge le performance del vostro server e arriviamo al punto che se abbiamo 10 connessioni in simultaneo riusciamo a fare solo una richiesta al secondo che ovviamente non è non è quello che vogliamo fare quindi di nuovo il suggerimento è quello di ok belli fighi come vedete qui non stiamo risparmiando nulla nell'andare a utilizzare gli async anzi avevamo scritto un po' più codice e come vedete in questo caso abbiamo 10 richieste al secondo che è quello che ci aspettiamo se per ogni richiesta ci vuole un secondo e abbiamo 10 utenti connessi simultaneamente quindi queste sono le performance che volevamo raggiungere restiamo a utilizzare le basi e abbiamo queste performance e con questo concludo un po' questo talk se vogliamo un attimo riassumere quello di cui abbiamo parlato oggi sostanzialmente abbiamo visto che i protocolli di iterazione sono un modo per standardizzare un po' diciamo tra tutti i modi diversi che abbiamo per fare iterazioni i protocolli di iterazione sono quelli che hanno un po' più di interoperabilità perché sono un po' uno standard e abbiamo visto che qualsiasi oggetto iterable e iterator può essere in qualche modo integrato con variati tipi di sintassi for off for await lo spread operator e così via e quindi sono un tool un po' più ergonomico se volete andare a creare un qualcosa su cui volete fare delle iterazioni sequenziali sia asincrone che asincrone e la mia raccomandazione è non usateli per tutto perché come avete visto in alcuni casi se provate a utilizzarli in determinati contesti forse vi fate più male che bene e gli esempi classici in cui effettivamente vale la pena utilizzare questo pattern è quello quando dovete andare a prendere dei dati da delle API paginate o ad esempio quando dovete consumare dei dati da una coda o da uno stream ma non utilizzateli per qualsiasi altro contesto per esempio richieste web o casi in cui vi interessa la concorrenza se non vi interessa andare a fare step uno dopo l'altro in ordine se volete imparare di più abbiamo già parlato del libro ma qui vi trovate ulteriori link il libro approfondisce questi temi e parla anche di ulteriori pattern ho anche scritto un articolo sul blog del libro a cui potete accedere liberamente e riassume un po' tutto quello che abbiamo visto in questo talk quindi può essere un'altra buona risorsa se preferite leggere piuttosto che ascoltare me che parlo e alla fine ho anche voluto mettere un ulteriore talk che ho fatto che affronta questo stesso tema in un modo forse un po' più piacevole meno didattico ma raccontandovi una storiella un caso studio a cui ho lavorato e in cui utilizzando gli async iterator ho avuto modo di costruire un'API piuttosto ergonomica e con tutto ciò vi ringrazio e non so se ci sono delle domande grazie mille ancora e spero che siete ancora tutti lì vivi grazie Luciano complimenti l'esperienza dei talk si vede ma anche il grado di approfondimento della tematica ho scritto diverse domande man mano che facevo vedere gli esempi e puntualmente poi mi rispondevi il minuto dopo quindi ah bene molto 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 completo e arrivano anche applausi dai vari canali Slack e quant'altro poi man mano te li riporto intanto che che arriva c'è qualche secondo di delay e arriva e arriva qualche domanda vorrei farti una domanda sul caso del 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 globe in particolare quando abbiamo usato la box controller in particolare il tutto perché cioè il metodo on del degli events di Node.js non gestisce lo stop del dello stream poi non è non è corretto parlare credo sia corretto parlare di stream perché crea direttamente l'itereo però potenzialmente oltre al lon matcher match potrebbe ascoltare un secondo evento che abbiamo fatto poi noi con la box controller del del land per poter ritornare il il done true dell'itereo corretto sì 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 in realtà questa è una cosa che io quando mi sono trovato di fronte a questo problema che veramente banalmente senza pensare troppo come funziona l'on ho implementato una roba del genere ho detto ok eseguiamola a un certo punto mi sono reso conto aspetta ma ci sono delle righe alla fine che non esegue mai che sta succedendo e lì poi mi sono reso conto appunto di questo problema e andando a rivedere la documentazione mi aspettavo che ci fosse appunto un qualcosa come dici tu dire ok se stai ascoltando tutta una serie di eventi posso dirti pure quale sarà il nome dell'evento che mi dice che abbiamo finito e mi aspettavo una cosa del genere ma in realtà la soluzione è un po' più complessa che è quella di utilizzare la board controller ritorno un attimo indietro così forse è più facile seguire dove stava dove stava qui in realtà questa è una cosa un po' più generica non ti obbliga ad avere un segnale di fine che è basato su eventi ma semplicemente puoi implementare la board controller come vuoi tu potresti ad esempio ascoltare che premi control c con i segnali di sistema e a quel punto triggerare la board controller quindi in realtà è una soluzione un po' più flessibile però ti costringe poi a gestire il catch e l'accensione generata da questa cosa mentre poteva essere la chiusura del ciclo pulita dell'e-triple con il done sì lì onestamente non so se perché a livello contestuale cioè credo che l'unico modo che abbia per stoppare questo ciclo potrebbe essere quello di fare un break andrebbe visto il codice per vedere come è implementato ma mi immagino che andare a tirare quell'eccezione era l'unica soluzione generica che potevano avere in quel contesto quindi ti forza a fare un sacco di lavoro a livello utente per gestire questa eccezione ma credo che sia l'approccio più generico non sono sicuro che abbiano potuto fare magari che ne so restituire direttamente un iterator con done perché magari non è detto neanche che tu voglia fare quello quindi prima di passare la domanda di Marco l'altra cosa volevo stavo pensando il livello di stream iterable quindi proprio il create stream eccetera penso sia una cosa solo di Node.js ti volevo chiedere se lo sapevi perché a livello di javascript browser sono pochi gli stream che ad oggi si utilizzano però non mi pareva di aver visto qualcosa del genere lato browser ad esempio il media recorder è uno degli stream dei pochi stream che si utilizzano diciamo nativamente nel browser onestamente non l'ho mai utilizzato quindi non ti dico nulla con certezza potrebbe implementare questi protocolli perché magari c'ha senso e comunque questi protocolli sono standard a livello javascript quindi esistono da un punto di vista frontend poi sta diciamo all'implementazione dello standard andare a definirlo come un async iterator magari il fatto che siano iterabili è di standard javascript e non di node in particolare il protocollo iterazione è uno standard di javascript poi in node.js gli stream hanno deciso di implementare questo protocollo allora questo ok quindi gli stream iterabili sono di node è una decisione di node potrebbe essere anche una decisione dell'implementazione del media encoder ma onestamente dovremmo vedere la documentazione non è ti porto una domanda di marco dal canale slack anzi un paio effettivamente quanto utilizzi gli iterator async e non e in che contesti particolari sì vi rimando di nuovo a questo talk che avevo fatto e che lo rifarò pure al node com remote quest'anno infatti sono felicissimo per la prima volta di essere stato selezionato dalla node conf in cui appunto racconto questa storiella che poi non è un progetto di produzione ma è semplicemente un progettino a cui stavo lavorando io così per passatempo però l'idea appunto è che dovevo andare a fare una ricerca di un determinato valore all'interno di un diciamo un API che in modo paginato mi restituiva migliaia di record quindi dovevo andare a attraversare tutte queste pagine e andare a filtrare questi valori in modo da poter trovare diciamo i valori che verosimilmente stavo cercando e in quel caso andare a implementare diciamo il client di quest'API come una sync iterator mi ha permesso poi semplicemente di fare un for await e all'interno andare a fare un filtro sulla pagina corrente quindi quello credo sia un ottimo caso d'uso mi è pure capitato in passato proprio con SQS di dover creare un worker che consumava eventi da una coda e anche lì utilizzare gli async iterator è comodo nel senso che comunque vogliamo implementare quel pattern prendi un job finché non è completo non prendi il successivo quindi c'è una sintassi che è molto espressiva e anche chi non ha capito diciamo al 100% tutte le implicazioni di async await secondo me quella sintassi è più leggibile di andare a dare qualcuno un qualcosa scritto con mille callback o promise che richiede secondo me una comprensione di javascript molto più approfondita quindi credo che in generale sia una sintassi più espressiva è più semplice da capire anche per chi non capisce tutti diciamo i costrutti di javascript però ovviamente va preso un po' con le pinze perché come abbiamo visto ci sono dei casi limite pericolosi che possono farci male quindi bisogna stare attenti quando veramente la dobbiamo usare bisogna capirla bene e poi sì una volta l'abbiamo implementata anche altre leggendola avrà senso ma quando la implementiamo noi stiamo attenti ad aver capito poi i casi d'uso particolari chiaro e mi chiedono al canale il best practice per orchestrare la concorrenza che nel caso di promise all any race in questo caso degli iterable sono sempre come vedevamo prima sequenziali cioè non ci sono sì 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 se ho capito la domanda è un po' la differenza diciamo tra promise all gli iterator giusto? sì cioè per gestire eventuali chiamate concorrenti la mia risposta istintiva è non le usate perché come abbiamo visto lo stavamo un po' facendo in questo esempio del web server qui anzi approfitto di questa domanda per portare un altro dettaglio che che volevo presentare però poi forse sarebbe stato un po' troppo complesso cioè noi quello che abbiamo detto qui è abbiamo web server stiamo utilizzando questo metodo on che ci consente di creare un iterator a partire dai eventi in realtà questo è un caso in cui noi vogliamo concorrenza cioè se succedono tanti eventi insieme vogliamo gestirli nel modo più parallelo possibile piuttosto che in sequenza uno dopo l'altro perché chiaramente se no gli utenti stanno lì a aspettare e non devono aspettare potremmo rispondergli subito quindi perché farli aspettare e quindi il problema abbiamo visto che accade solo nel momento in cui all'interno di questa funzione scusa all'interno di questo ciclo abbiamo una wait perché a quel punto stiamo creando una promise che ci metterà del tempo a risolvere e creando quella promise questo ciclo aspetta che quella promise venga risolta potremmo fare un trucchetto che è un po' così grezzo che è quello di dire ok io invece che rispondere qui e fare la wait qua dentro stesso mi creo un'altra funzione che la chiamo handler e quella può essere pure una funzione async e può avere a wait e la posso chiamare da qua dentro passandogli la richiesta l'importante è che non facciamo la wait di questa funzione quindi a quel punto è quello che hai fatto la slide dopo è quello che ho fatto la slide dopo ah scusi un paio un altro paio ok per dire create server normale nel senso esatto sostanzialmente sarebbe ricreare quella stessa cosa però potresti continuare a usare questo pattern se veramente ti piace tanto però stando attento che questo tutto questo va in una funzione di tipo async e non fai la wait di quella funzione quindi chiami solo quella funzione e non fai la wait però se mi permette un po' un hack perché non è la cosa più pulita del mondo perché stai andando a creare delle promise che poi non stai lì ascoltare a quel punto quello che succede sì quella promise verrà fatta diciamo in modo staccato da questo loop non stai aspettando che finisca quindi il loop ha messo quella promise sull'event loop ma comincia poi a elaborare le richieste successive quindi hai di nuovo la concorrenza che sostanzialmente sì come dici tu è la stessa identica cosa che succede qui e quando c'hai un create server normale gli stai passando la callback function che ti gestisce ogni singola richiesta quindi possiamo dire che se abbiamo bisogno di gestire le cose in maniera parallela concorrente come vogliamo in questo caso con le pinze non è il caso di usare gli iterable esatto sì diciamo come ho voluto portare questo esempio perché secondo me se proprio vuoi fare uno stretch puoi riuscire a creare una sorta di promise hall che però è sequenziale però non so quanto ti complichi la vita poi per nulla cioè probabilmente sì non è una cosa per cui vale la pena andare a creare tutto questo costrutto perché non va a soddisfare il casus originale degli async iterator molto chiaro Luciano grazie sono quasi le otto c'è anche la partita dell'Italia quindi andiamo sì mi sa che a cena e ti volevo solo togliere chiedere una curiosità penso che un po' nel nostra community è uscita un paio di volte come argomento e volevo affrontarlo con te c'hai cinque minuti proprio non ti rubo d'altro tempo ma una breve racconta della tua esperienza con questo libro come è stato parteciparci poi ti lascio raccontare le cose come cosa ti sei portato poi cosa ti ha dato la spattura la review i feedback esterni assolutamente spero di riuscire in cinque minuti perché potrei parlare per ore tra l'altro Francesco Sciuti domani lo ritrovano su youtube esatto tra l'altro Francesco Sciuti che non so se conoscete o seguite se qui lo saluto ma ha proprio fatto un'intervista su questo tema la trovate nel suo canale youtube quindi lì forse mi dilungo molto di più di quanto farò ora allora la cosa particolare per cui mi ritengo molto fortunato è che NoJS Design Pattern la prima edizione è stata scritta da Mario Cacciaro da solo e ha fatto un lavoro veramente eccezionale è veramente un libro che io con quel libro mi sento di aver imparato il capitolo NoJS la fortuna ha voluto che proprio dopo aver letto quel libro iniziato a fare una serie di progettini così stupidi open source e essermi messo su NoJS Italia su Facebook sul gruppo Facebook a dire ho fatto questa cosa da povero programmatore PHP che pensa ancora come obgett-oriented che sta imparando si è fatto un po' di Java ma si sta avvicinando ora a NoJS che ne pensate e mi hanno un po' bonariamente massacrato nel senso mi hanno dato una serie di feedback costruttivi con cui mi sono reso conto aspetta devo un attimo cambiare un po' mindset approcciare il linguaggio in un modo diverso ok che ho letto il libro ho letto i pattern ma forse ancora non li ho ben digeriti devo fare un po' di esercizi e la cosa che mi colpì è che tra le varie persone che mi diedero questo feedback c'era proprio pure Mario allora lì abbiamo intrapreso insomma una conversazione poi pure lui vive in Irlanda quando mi trasferì in Irlanda abbiamo avuto modo di incontrarci e lì lui stava già pensando di fare una seconda edizione però non aveva tempo perché aveva una sua startup lavoro anche full time e quindi mi ha coinvolto in questo progetto e non nascondo che all'epoca giocavo con OJS da un annetto e mezzo sì avevo un'esperienza di javascript da web developer precedente ma non mi sentivo all'altezza di poter scrivere un libro e in quel senso mi ritengo molto fortunato di aver contribuito a un progetto che comunque già aveva delle belle spalle cioè era già molto ben strutturato un libro che comunque aveva avuto ottime recensioni ben conosciuto che avevo già letto e mi piaceva parecchio quindi sai quella paura e dici ok se mi metti in gioco è un po' come ti piace vincere facile però comunque c'è quella paura di farlo perché non ti senti all'altezza per fortuna poi ho deciso di appunto intraprendere questo progetto e ti dirò che è stata un'esperienza bellissima perché una cosa è tu dici ok sto studiando questa cosa perché la voglio imparare una cosa è metterti nella prospettiva che la devi insegnare agli altri quindi tutto quello che impari vai a approfondirlo molto di più perché non solo lo devi spiegare a te stesso ma devi anche trovare il modo di spiegarla agli altri e quindi quella è stata un'esperienza per me formativa fortissima in più chiaramente c'è pure tutti i cicli di review comunque lavoravo con Mario che mi ha dato tantissimi feedback e quindi anche quello è un qualcosa che ti fa crescere da questo punto di vista è un'esperienza che consiglio un po' a chiunque a iscrivere o creare contenuti di tipo educativo non per forza dovete fare un libro cioè va benissimo il giorno d'oggi pure fare un blog e scrivere gli articoli magari dopo che avete scritto dieci articoli se vedete che state parlando in modo sequenziale di una serie di argomenti coerenti nulla vi vieta di rimpacchettare quel contenuto sotto forma di libro magari dandogli un po' più di struttura quindi esperienza formativa bellissima la consiglio a tutti e ho avuto effettivamente anche tanti riconoscimenti nelle community quindi anche quello è sicuramente valore aggiunto bello complimenti Luciano grazie Luciano grazie grazie veramente per essere stato nostro ospite per aver portato dei concetti penso complessi da un certo punto di vista che non capita tutti i giorni di approcciarci ma completi come dicevo prima quelle poche domande che mi sono venute quasi tutte sono state risposte subito quindi complimenti e grazie veramente e a questo punto abbiamo raggiunto il nostro target di orario vi ricordo il prossimo appuntamento terzo mercoledì del mese il 21 luglio con un ospite particolare parleremo di realtà aumentata nel browser quindi tutto ciò che si può fare ad oggi puro javascript frontend e niente vi lascio alla cena la partita e grazie per essere stati con noi io ne approfitto di nuovo per ringraziare te Matteo ma tutta la community è stato veramente un piacere alla prossima ciò 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 ciao